Un parterre di personalità di altissimo profilo scientifico e accademico nel campo medico e della ricerca è quello messo in campo dall'ex gemelli in Molise diventato oggi Responsible Research Hospital che ha varato il suo nuovo comitato scientifico. Si tratta del primo passo verso l'attuazione di un progetto di ampio respiro che offre al paziente un percorso di cura con terapie strumentali e personalizzate di ultima generazione. Credo che i nomi parlano da sé, siamo riusciti a comporre un comitato scientifico sicuramente degno di questo nome e credo sia qualcosa di bellissimo per questa regione e un segnale molto chiaro delle ambizioni che abbiamo. Qualcuno parlava prima di calcio, visto che ultimamente abbiamo anche fatto qualche piccolo investimento nel calcio abbiamo un comitato scientifico sicuramente della Champions League quindi sono veramente onorato di avere questi professionisti di fama mondiale qui a Campobasso sono altrettanto onorato di avere come presidente di questo comitato scientifico il magnifico rettore Luca Brunese dell'Università del Molise anche questo è un bel segnale credo per questa regione. A presiedere il comitato che si occuperà di coordinare l'attività didattica e scientifica e dare un impulso anche alle attività cliniche è stato chiamato il rettore dell'Università del Molise Luca Brunese Devo dire che avendo fatto parte di tanti comitati scientifici quello che abbiamo insediato oggi è veramente di livello altissimo i colleghi sono tutti di grandissimo rilievo nazionale e internazionale e partecipano con lo spirito giusto, questo ci è piaciuto oggi molto nella riunione l'idea è di fare squadra, oggi la ricerca vera si fa non in un singolo centro ma mettendo insieme tante strutture che hanno grandi capacità di ricerca confrontando i risultati e facendo massa critica che ti rende competitivo naturalmente anche a livello internazionale noi partiamo dai punti alti che questa struttura ha già per migliorarli e renderli ancora più attrattivi di quanto già non sono penso alla ginecologia, alla terapia, ma tanti altri campi io mi occupo di radiomica, è un campo estremamente nuovo e importante la diagnostica per immagini, negli studi che faremo qui sicuramente porteremo avanti dei grandi risultati A comporre l'organismo oltre a Brunese sono i professori Giuseppe Petrella Alfredo Budillon, Francesco Schitulli, Antonio Di Carlo e Antonio Giordano quest'ultimo con una vastissima esperienza di profilo internazionale Penso che questa struttura ha una posizione prima di tutto logistica chiave, importante ma una serie di professionalità in un campo dove purtroppo esiste un aumento di patologie vertiginose dal punto di vista tumorale e quindi c'è una grande necessità di andarla a potenziare non solo dal punto di vista clinico ma anche dal punto di vista della ricerca scientifica A sottolineare il valore della ricerca internazionale è dagli Stati Uniti il professor Di Carlo specializzato nei trapianti di rene, fegato e pancreas e donazione da vivente Con l'esperienza di tumori epatobiliere patriatici l'esperienza internazionale allora possiamo sempre, è una collaborazione che possiamo portare clinical trials che ancora non sono arrivati in Europa e portarli ai pazienti che serviremo qui e con contribuzioni che abbiamo già discorsi in detezione iniziale, in detezione molto presto dei tumori che svilupperanno i cancer però queste sono le contribuzioni che proveremo a iniziare immediatamente credo grazie a tutti